Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato al Mido Ocean Star. Mido Ocean Star GMT, anche denominato Shark, ecco Mido ci abitua a questi nomi lunghi articolati che poi vedremo anche perché Shark, vedremo il tutto. Special Edition non significa che è una limited edition, non confediamo queste cose, si tratta di un orologio che è a catalogo definitivo e che va a celebrare gli 80 anni della storia della nascita del primo Ocean Star, della collezione Ocean Star e si differenzia abbastanza da tutto il resto della gamma presente al momento. Fa un pochino il verso diciamo all'edizione limitata uscita qualche tempo fa per Odinchi, che quella era in 999 pezzi, è abbastanza differente, riprende alcuni punti di quella, si vede che ha avuto successo e li riporta qua a catalogo definitivo. L'orologio perché l'ho preso? Perché mi piace, mi piace esteticamente, mi è sempre piaciuto il Tribute dal quale prende il bracciale e la cassa, ad esempio, come vedremo poi nel dettaglio, non fermiamoci qua, non è solo quello, ma creando un orologio completamente nuovo, nuovo, differente, con un quadrante completamente differente dal solito. E me l'ho messo a disposizione l'amico Giacomo, che è titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, che è partner ufficiale del canale. L'ho visto, gliel'ho chiesto, me l'ha messo a disposizione, chiaramente è concessionario ufficiale del marchio, quindi le trovate lì, i mido. A tal proposito vi voglio ricordare anche domenica 12 maggio, il quinto raduno del canale, il quinto watch meeting, sempre a Viareggio, presso la gioielleria Pasquale Domenici, nella zona antistante, la zona pedonale, ci incontreremo per fare questo piccolo raduno del canale, dove potremo parlare di orologi, dare un nome ai nickname che vediamo sotto nei commenti, e poi magari anche entrare e provare gli orologi, ci saranno rappresentanti delle case orologiere, personaggi di spicco, quali Piero, per esempio, no? Ho detto tutto. Va bene, vi aspetto domenica 12 maggio alle ore 15. Torniamo all'orologio, a Bombissima, è un orologio che chiaramente mi piace, ho deciso di portarlo, e che rappresenta, diciamo, il nuovo corso di mido, nuovo corso intendo dire l'utilizzo della cassa del tribute per varie altre situazioni, come ad esempio il World Timer, no? È una cassa da 40.5 mm che ha avuto successo e che quindi viene utilizzata anche in questo caso. Adesso vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo Longines Legend Diver da 39 mm, il classico doppia corona perché c'è la bag interna girevole e che mi dà tanta soddisfazione. Mi piace, al polso fa il suo, insomma, mi piace, un orologio, bello, bello, bello. Giriamo la camera, diamo un'occhiatina al Mido Ocean Star GMT Shark e poi ci vediamo qua come al solito per le considerazioni finali. Controlliamo i risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate manualmente. Diametro cassa 40.5, spessore 13.6 mm, ingombro trasversale al polso 47 e interasseanza da 21 mm. Al polso risulta essere alquanto proporzionato e non vi sono misure al di fuori dei canoni standard, eccezione fatta forse per lo spessore di 13.6 che è un po' al limite superiore dell'accettabile. Ciò è dovuto probabilmente al connubio di fondello a vite e calibro GMT, due caratteristiche che solitamente richiedono maggiore spazio all'interno della cassa. Ciò detto, non lo si può certo considerare male indossabile. D'altronde l'aspetto è quello di un diver e siamo abituati ad accettarli come orologi un po' più ingombranti del solito. Attenzione però che l'apparenza inganna, in quanto questo Shark, pur appartenendo alla famiglia Super Ocean, non vuole essere un diver. Certo, presente una ghiera girevole, è impermeabile fino a 200 metri e la robustezza di costruzione è evidente, ma non riporta i tempi di immersione sull'inserto, non vi è alcuna dicitura a riguardo dell'impermeabilità sul quadrante e non sono presenti spallette di protezione corona. Vi dirò di più, la ghiera non è unidirezionale. E allora cos'è? È semplicemente un GMT con caratteristiche di impermeabilità notevoli e cassa ripresa dai diver della casa. Si tratta infatti della stessa cassa utilizzata per il Mido Decompression World Timer e per l'Ocean Star Tribute. Le differenze sono l'assenza delle spallette rispetto al Tribute e la finitura satinata rispetto a quella lucida del Decompression. Bastano quindi un paio di modifiche per ottenere una cassa che sfrutta le due caratteristiche più interessanti di entrambi gli orologi. La corona così solitaria ci restituisce quel gusto vintage tanto in voga sugli skin diver odierni, mentre la finitura completamente spazzolata gli conferisce quel piglio austero e serioso proprio degli orologi strumento. Ed è proprio quella finitura che va per la maggiore tra noi appassionati. O meglio, si riesce ad apprezzare anche quegli orologi che al polso emanano una certa brillantezza e pregio, dipende dalle situazioni. Pregio sfizioso che però non esula del tutto da questo contesto, in quanto vi sono alcuni elementi lucidati a specchio che contrastano le opacità e regalano qualche soddisfazione alla vista. Sto parlando dei classici biselli di separazione ansa che nascono a bordo ghiera per poi allargarsi dolcemente verso il bracciale, della coronavite che vede sia la faccia esterna che la zigrinatura che si pongono in forte contrasto con il lato cassa e della zigrinatura ghiera che appare nettamente inclinata rispetto al piano verticale. Non è molto efficace a livello di grip, ma sono riuscito a comprendere che non è il caso di farla ruotare utilizzando solamente indice e pollice. La massima funzionalità la si ottiene ponendo la mano in verticale e facendo leggera pressione con 3 o 4 dita. Questo è il modo più efficace per utilizzare la ghiera. Tra l'altro presenta una particolarità che non avevo mai riscontrato su altri orologi, ossia è a 72 scatti, non 120 o 60 come al solito, 72. Da dove nasce questo numero? È campato in aria? No, semplicemente le ore segnate sulla ghiera sono 24 e 72 è un multiplo di 24. È quindi una scelta corretta. Si poteva fare a 24 scatti, troppo distanti tra loro, o forse 48, ma si è scelto 72 che restituisce un feeling simile al solito, consentendo il giusto posizionamento delle cifre sulla ghiera. Come ho detto in precedenza è bidirezionale in modo da poterla utilizzare velocemente per settare il secondo fuso in un senso o nell'altro. In realtà i fusi monitorabili potrebbero essere tre in quanto vi è una scala 24 ore anche sul quadrante. Si può quindi puntare la sfera GMT su quella scala per avere il secondo fuso e far ruotare la ghiera per averne un terzo. Per quanto riguarda le scelte stilistiche invece occorre segnalare quella di utilizzare un semplice inserto in alluminio, forse un po' a rischio graffi, anche se il bordo zigrinatura riesce ad inglobarlo correttamente fungendo da protezione. Blu notte, questo è il colore scelto, esattamente come il fondo quadrante. Risulta palese che tutto il gioco cromatico dell'orologio fa leva sul bianco e sul blu, anche se definirli così è un po' troppo asciutto. Gran parte del contrasto è dato da quell'anello sul rio, proprio quello che riporta la scala 24 ore. Bene, non è bianco, ma argento spazzolato, una finezza che vale la pena evidenziare in quanto si distacca dal fondo quadrante andando a creare un ulteriore piano posto su di un differente livello. Chiaramente ne giova la profondità percepita, che viene poi accentuata dagli indici applicati, che appaiono anch'essi in rilievo rispetto al quadrante. Ed è proprio qui che si comprende il nomignolo affibbiato a questo orologio, shark, squalo. Sì, perché gli indici triangolari appaiono come una schematizzazione della dettatura di uno squalo. Una scelta che connota fortemente il suo carattere e lo rende particolarmente differente da tutti gli altri orologi presenti nella linea Oceanstar. Personalmente è un design che riesco ad apprezzare alquanto. Si tratta di un modello stilistico che esalta l'armonia delle forme e pone il punto d'equilibrio al centro del quadrante. Neppure la finestra data riesce a rovinare il quadro generale e a tal proposito ritengo sia un bene che la scelta non sia ricaduto sul solito Day-Date che contraddistingue la maggior parte della gamma Oceanstar. Bene così, bene solamente la data. Occorre poi evidenziare la particolare decisione presa per le quattro lancette. Ognuna di esse ha una sagoma differente in modo da distinguersi al colpo d'occhio. Qui l'unico appunto che mi sento di fare è l'eccessiva superficie della parte metallica rispetto al bianco del superluminova. In determinate condizioni di luce c'è un'eccessiva mimetizzazione della parte lucida e le sfere sono distinguibili solamente grazie alla parte ricoperta di pigmento luminescente. Non sto parlando ovviamente di quella dedicata alla lettura del secondo fuso. Essendo rossa è facilmente visibile e svolge decisamente il proprio compito. Devo poi aggiungere che si tratta di una lancetta che ruota solidale alla sfera minuti ed ore. Sì, perché in questo GMT è la sfera ore ad essere indipendente. In questo modo si può regolare l'orario locale senza fermare la sincronizzazione del tempo, mentre la sfera GMT continuerà ad indicare l'orario di casa. Il cosiddetto GMT per viaggiatori. Questo è dovuto all'utilizzo del calibro 80 in versione GMT, ossia su base ETA C07661. esattamente lo stesso calibro che avevamo visto sul Decompression World Timer. 21.600 alternanze orarie, 25 rubini, 80 ore di riserva di carica e spirale libera in Ivacron. Un calibro efficiente, preciso e realizzato specificamente per i brand del gruppo Swatch. Non è possibile dargli uno sguardo in quanto il fondello è in acciaio pieno, una scelta che molti approveranno e che conferisce solidità generale all'intero orologio. Ma torniamo al lato A per dare uno sguardo alla luminescenza. Il Superluminov BGW9 è presente su tutti gli accenti, sfera GMT compresa. Appare evidente che è possibile leggere l'orario anche in assenza di luce. Meno immediata sarà invece la lettura del secondo fuso, in quanto i numeri sulla ghiera non sono illuminati. Vi è solamente un dot luminescente e occorre utilizzarlo come punto di riferimento, facendo un rapido calcolo spannometrico. Più in generale, osservando l'orologio nella sua globalità, ritengo si tratti di un design alquanto originale, non tanto per la cassa già utilizzata in passato, ma quanto per il quadrante, che nel suo insieme mette in evidenza un anello scuro, uno chiaro ed un disco centrale scuro, un'alternanza che fa apparire il quadrante come più piccolo di quanto sia in realtà e che differenzia l'orologio da quanto visto sul mercato fino ad ora. Voglio rimarcare quel concetto perché ritengo sia uno dei suoi punti forti. Già visto è invece bracciale, o per meglio dire, è lo stesso bracciale della versione Tribute ma completamente satinato. Questo plot twist farà felici più. Di sicuro lo sono io, in quanto si tratta di uno dei bracciali con maggiore appeal utilizzati da Mido e vederlo tutto satinato non può che vedermi d'accordo. La rimozione delle maglie però è un poco difficoltosa, o perlomeno io mi sono trovato in difficoltà a causa della durezza dei pin e di quanto sia complessa l'architettura a singoli segmenti. Sono piuttosto mobili e facendo pressione sui perni vanno ad inclinarsi opponendo resistenza. Il lato positivo è che è presente una regolazione fine sulla clasp. Una volta trovata una lunghezza di compromesso non sarà più necessario aggiungere o rimuovere maglie. Si potrà regolare tutto tramite due pulsantini sulla scattoletta e il bello è che si può fare con l'orologio indossato al polso. È sufficiente una mano per estendere o far ritrarre la prolung. Ottimo, ottimo. Per chi volesse c'è anche un'alternativa in quanto nella scatola è compreso un nato da utilizzare a piacimento. Trovo sia un'aggiunta degna di nota in quanto con interasse ansa da 21 mm si riducono le possibilità di scelta sul mercato secondario. Occorre sottolineare una genialata, ossia un nato con spring bar a sgancio rapido. È la prima volta che mi capita di vederle e trovo che sia un sistema tanto semplice quanto utile. Tra l'altro trasformano è nato in uno spezzone unico, da utilizzare quindi come single pass, un unico nastro che passa sotto l'orologio. Possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali. È una genialata, secondo me sta cosa del cinturino nato con le spring bars a sgancio rapido è una genialata, veramente comodo. Non capisco come mai nessuno ci aveva mai pensato. Io la prima volta che lo vedo, poi scrivetevi nei commenti se qualcuno di voi l'ha già visto perché è la prima volta. E poi, anche a pensarci bene, l'iperlimp ti lascia un po' perplesso, dici sarà sicuro. In realtà funziona esattamente come un nato normale che passa 12 volte sotto al polso perché se si sgancia una spring bar l'altra rimane attaccata e la testa rimane attaccata al pezzo singolo. Quindi funzionalmente e a livello di sicurezza è uguale ad un nato a doppio passo con tutti i rigori intorno. Detto questo però c'è anche un minus, nel senso che, bene, mi fai la spring bar sul nato però non me la fai sul bracciale. Qua non ci sono le spring bars a sgancio rapido, ci sono quelle tradizionali che vanno spernate con l'attrezzo e lì mi lascia un po' perplesso. Mettile anche qua le spring bars a sgancio rapido, tanto più che nella maggior parte dei middle di ultima generazione ci sono, non vedo perché non ci debbano essere qua. Poco male, anche perché io il nato volevo farvelo vedere così nel video e poi ho detto non lo monto nemmeno perché non ce n'avevo voglia, dai, è un nato, è un nato. L'ho montato per fare le riprese al polso e devo dire ragazzi che, cioè io sono un amante dei bracciali, questo bracciale qua mi piace un casino, poi è satinato. Quando è uscito ho detto, oh che bello, finalmente bracciale. Ci ho messo quel nato lì e ci sta meglio il nato, cioè ci sta meglio il nato, me lo rende veramente un orologio di altra classe e anche di altro aspetto, cioè un orologio veramente che ti dici che orologio c'è al polso, che marca è? Capito? Per assurdo. Non fa parte, non lo riconosci. Ecco, quel nato lì poi è anche di qualità perché è lucido, c'ha addirittura dove va l'ardiglione ce l'ha in cuoio per essere rinforzato spesso. Bello, bello, bello. Io lo indosserei quasi, quasi col nato, perlomeno d'estate. È anche un peccato perché sto bracciale qua è bello, cioè è bello. Aspettate un secondo, prima di tutto vi devo dire che all'interno dell'Ansa ci sono due fori, ci sono due fori. Sono rimasto sorpreso, cioè uno foro è per la spring bars, quello più esterno verso l'Ansa, alla fine dell'Ansa è per il bracciale, mentre l'altro, quello più interno verso la cassa è per il nato, per la spring bars del nato. Io sinceramente il nato l'ho messo in quella esterna come bracciale e ci sta. Quindi quando montate il nato potete metterlo sia all'interno che all'esterno. È una scelta in più, non so perché. Torniamo a bomba al bracciale. La figata è la regolazione del fine. Questa qua è un bel colpo di genio, nel senso che è utile, comodo e mi taglia fuori tutto il discorso di montare e smontare le maglie. Per contro però la claspi è un pochino ingombrante, ragazzi. Dovete farvi la piacere, dovete abituarvi a questa claspi gigante, questa scatoletta gigante sotto al polso, che insomma fa anche, non è che è bruttissimo da vedersi, però bisogna abituarsi. Un po' grossino. D'altronde è un orologio di presenza, di spessore, perché poi come presenza con il nato addirittura sembra ancora più piccolo. Io ve lo dico, con il nato sembra un orologino di quelli da 38, perlomeno sul mio polso, che è da 19. Poi sugli altri magari ci sta la perfezione. Altri punti deboli non ne ho trovati. Forse l'inserto ghiera in alluminio, si graffierà facilmente, ma siamo abituati, anche la rotazione della ghiera, con quattro dita così ruota perfettamente, con due, così come siamo abituati a fare gne gne da fighetti dal solito, si fatica un pochino, ma usate la manuna e così. Conti positivi poi sono una marea, come ce l'ho detto il bracciale, il cintrino nato, sono spettacolari entrambi. L'aspetto estetico di questo orologio esula dai soliti Ocean Star della gamma, e secondo me è un punto forte forte a favore. Poi Gmt, la funzione Gmt che non utilizziamo nessuno, cosa ce ne frega del Gmt? Niente, però c'è, è un Gmt, e vabbè le finiture, tutto buono, tutto buono il resto. I punti deboli li ho detto, i punti positivi li ho detto, e poi ragazzi non è che io posso stare lì, mi sono segnato qualcosa? Ma no, niente, ah, forse un altro punto positivo potrebbe essere... no, niente, dai, mi sembra di aver detto tutto, mi sembra proprio di aver detto tutto. Ragazzi, io vi ho messo l'orologio sul piatto, decidete voi, a me piace, a me piace molto, secondo me è il miglior Ocean Star l'ha riuscito finora, l'ho avuto lì, poi non costa nemmeno tanto, 1.441 Gmt, secondo me no. Io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto il video, l'orologio, il presentatore, tutto quello che c'è nel contorno, ma cosa ne so, tutto quello che vedete, e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube, love! Ciao! Ciao! Ciao!